Grazie Oh addirittura Grazie Matteo un bel gesto sia da Lentella e del nostro Vescovo Sì beh è un onore per noi essere qua e avere saluto e gli auguri da parte del Vescovo insomma lo ringraziamo veramente per noi è importante come diceva lui la prima squadra l'apice di tutta la struttura però ci sono 600 ragazzi su cui lavoriamo quotidianamente speriamo con lo spirito giusto per cercare di formarli al meglio Abbiamo sentito un Vescovo molto informato sulla Virtus Sant'Ella Sì siamo contenti siamo contenti di essere qui oggi davanti al Vescovo anche perché ripeto lui è un nostro tifoso ci fa sentire la sua vicinanza e poi è un momento importante un momento comunque in una settimana importante settimana di Natale e una settimana del derby quindi uniamo quello che è il sacro allo sportivo Un grande onore e una grande felicità essere col Vescovo di Chiaveri che segue Lentella da sempre devo dire con grande attenzione grande affetto è un uomo simpatico che ci vuole bene quindi grazie al Vescovo Tanasini Tra l'altro avete regalato la maglia numero 10 e la maglia ho detto al Vescovo che è la maglia del regista quindi ci affidiamo in buone mani eccellenza per vincere Lentella viene anche dal Vescovo no non viene dal Vescovo per vincere viene dal Vescovo per l'affetto e per la riconoscenza e per la considerazione che ha nei confronti del Vescovo gli auguri comunque se serve anche questo e per la considerazione che ha nei confronti del Vescovo